Ciao mamma! Ciao Stefano! Allora guarda questo effetto, si chiama il gioco del primitivo. Come funziona? Allora io sono l'uomo primitivo e tu sarai il madame. Madame è una signora graziata con una certa eleganza. Io qui ho un mazzo di carte tutto regolare, spero che si veda, giusto? Chiudi le carte, vai. E adesso ascolta benissimo, squadra bene. Madame con grazia cosa fa? Taglia il mazzo a metà. Vai. Ok? Ora prendi questa metà, io non posso aprire niente, e tu dividi in due mazzetti e ti fermi quando vuoi tu. Come farebbe Madame con grazia, giusto? Stop! Metti via quel mazzetto, premi questo mazzetto qua e dividi la metà. E ti fermi quando vuoi tu. Stop! E ti via. Sicuramente così vuoi aggiungere ancora altre? No. Bene, chiudi tutti i mazzetti. Li prendo così? Tutti. E tutto tu. E ti sei fermato dove tu, questo gioco è libero. Ok. Ora, io sono un primitivo, tu sei Madame. Madame butterà giù con grazia le carte. Io? Hug! Mettila via. Mamma, mi hai fatto spaventare. Io non mi entra la mano. Vai, continua. Hug! Mettila via. Vado? Hug! Mettila via. Dividi bene, separa bene. Ok? Vai. Hug! Mettila via. E questa è l'ultima. Mettila via tutto. Sei d'accordo di un po' sapere niente? No. Perché io sono un primitivo che va a istinto primitivo. Tu sei quella grazia. Tu sei quella grazia di Madame, giusto? Bene. Tu stessa, gira le quattro carte. Asso di quadro. Asso di fiori. Asso di cuori. Asso di picche. Madame. Come hai fatto? Il suo lavoro è stato fatto? Aggraziato. Complimenti, bellissimo. A Hug! Grazie. Grazie. Grazie.